padre fernando rievocava i suoi ricordi con un tono da omelia costruendo le frasi con sobrietà e precisione tanto da farle sembrare vacue esortazioni morali lunghi anni di insegnamento avevano forgiato quello stile di dascalico tipico di chi è abituato ad avere un uditorio ma nello stesso tempo si chiede se qualcuno lo stia ascoltando se la memoria non mi inganna julian caradi venne un allievo del san gabriel nel 1914 facciamo subito amicizia perché appartenevamo entrambi a quell'esiguo gruppo di studenti che non proveniva da famiglie benestanti ci chiamavamo il commando morsegana morti dalla voglia ciascuno di noi aveva la sua storia io mi ero iscritto grazie a una borsa di studio perché mio padre aveva lavorato 25 anni nelle cucine della scuola mentre julian era stato ammesso per intercessione del signor aldaia che era cliente della cappelleria fortuni di proprietà del padre di julian erano altri tempi naturalmente allora il potere si concentrava nelle mani di poche dinastie sto parlando di un mondo ormai scomparso i cui resti per fortuna sono stati spazzati via dalla repubblica di quell'epoca oggi rimangono solo dei nomi senza volto sulla carta intestata di imprese banche o consorsi come tutte le citanti che barcellona è un ammasso di rovine le glorie del passato di cui molti vanno fieri palazzi fabbriche e monumenti i simboli in cui ci identifichiamo non sono altro che cadaveri reliquie di una civiltà estinta padre fernando fece una pausa solenne come se l'assemblea dei fedeli dovesse intonare il tedeum amen reverendo padre parole sante disse fermin per rompere il silenzio stava accennando al primo anno di mio padre in questa scuola gli rammentai con garbo padre fernando assentì a quei tempi si faceva già chiamare carà benché il suo primo cognome fosse fortuni all'inizio alcuni ragazzi lo prendevano in giro per questo e perché era uno dei morsegana naturalmente si burlavano anche di me in quanto ero il figlio del cuoco sa come sono gli adolescenti il loro cuore trabocca di bontà ma ripetono quello che sentono a casa angioletti disse fermin cosa ricorda di mio padre ma è passato tanto tempo il migliore amico di suo padre non era jorge aldaia ma un ragazzo che si chiamava miguel moliner miguel veniva da una famiglia ricca quanto quella degli aldaia e probabilmente è stato l'allievo più stravagante che abbia mai frequentato questa scuola il rettore diceva che era indemoniato perché recitava marx in tedesco durante la messa inequivocabile indizio di possessione confermò fermin miguel e giuliana andavano molto d'accordo a volte ci riunivamo tutti e tre durante la ricreazione di mezzogiorno e giuliana ci raccontava delle storie altre invece parlava della sua famiglia e degli aldaia il sacerdote ebbe un attimo di esitazione alla fine dei nostri studi miguel e io continuammo a vederci per qualche tempo giuliana era già andato a parigi e miguel sentiva la sua mancanza parlava spesso di lui e ogni tanto ricordava qualche sua confidenza poi quando entra in seminario miguel disse che ero passato al nemico lo disse scherzando ma da allora ci allontanammo sapeva che miguel si è sposato con una certa nuria monfort miguel è sposato la cosa la sorprende no però non so non ho più sue notizie da anni da prima della guerra le ha mai parlato di nuria monfort no mai e neppure del fatto che avesse intenzione di sposarsi o che avesse una fidanzata sentite non so se faccio bene a raccontarvi queste cose si tratta dei segreti di giuliana e di miguel ed era sottointeso che dovessero rimanere tali e negherebbe a un figlio la possibilità di sapere qualcosa del padre che non ha conosciuto chiese fermin padre fernando era combattuto tra il dubbio e il desiderio di lasciarsi andare alle reminescenze in effetti è passato tanto di quel tempo che ormai ha poca importanza ricordo ancora il giorno in cui giulian ci raccontò come aveva conosciuto gli aldaia e come senza che se ne accorgesse quell'incontro gli aveva cambiato la vita un pomeriggio di ottobre del 1914 un bastimento su quattro ruote approdò davanti alla cappelleria fortuni nella ronda di san antonio ne emerse la figura imponente di don riccardo aldaia uno degli uomini più ricchi non solo di barcellona ma dell'intera spagna il cui impero tessile si estendeva su un vasto territorio bagnato dai principali corsi d'acqua della catalogna con la mano destra egli reggeva le redini delle banche e delle proprietà immobiliari di mezza provincia con la sinistra sempre indaffarata muoveva i fili della giunta consigliare del municipio di diversi ministeri della curia e della dogana marittima quell'uomo a capo scoperto con folti mustacchi e basette regali che metteva tutti in soggezione era entrato nella bottega di don antonio fortuni perché aveva bisogno di un cappello si era guardato intorno distrattamente aveva notato il cappellaio e il suo aiutante il giovane julian e aveva affermato mi è stato detto che qui a dispetto delle apparenze si fanno i migliori cappelli di barcellona l'autunno si preannuncia rigido e io avrò bisogno di sei cilindri una dozzina di bombette diversi berretti da caccia e qualcosa di speciale da indossare alla corte di madrid sta prendendo nota o vuole che glielo ripeta ebbe così inizio un periodo di proficua collaborazione tra padre e figlio che unirono le forze per soddisfare al meglio le richieste di don riccardo aldaia julian che leggeva i giornali ed era cosciente della posizione sociale di quel cliente si disse che non poteva deludere il padre in un frangente di tale importanza da quando era entrato in negozio quel pezzo grosso il cappellaio non stava più nella pelle aldaia gli aveva promesso che avrebbe raccomandato agli amici la cappelleria fortuni se fosse stato soddisfatto del lavoro il negozio, dignitoso ma modesto sarebbe passato a provvedere di copricapo testine e testoni di deputati sindaci, cardinali e ministri la settimana trascorse in un baleno Giuliano non andò a scuola e lavorò 18, 20 ore al giorno nel laboratorio del retro bottega suo padre, al settimo cielo di tanto in tanto lo abbracciava e un giorno gli dede un bacio senza rendersene conto a Sofì, per la prima volta in 14 anni regalò addirittura un vestito e un paio di scarpe nuove il cappellaio sembrava un altro uomo una domenica mattina dimenticò persino di andare a messa e nel pomeriggio, con gli occhi lucidi strinse Giuliano tra le braccia e gli disse il nonno sarebbe orgoglioso di noi l'operazione più delicata dell'ormai scomparsa scienza della cappelleria dal punto di vista tecnico e diplomatico era prendere le misure il cranio di Don Riccardo Aldaia aveva le dimensioni di un melone e in più era bitorzoluto il cappellaio si rese conto delle difficoltà non appena il cliente entrò nel negozio e la sera, quando Giuliano affermò che quella testa gli ricordava alcune rocce del massiccio di Montserrat Fortuny gli diede ragione papà, con tutto il rispetto io sono più abile di voi che vi nervosite subito a prendere le misure lasciate fare a me il cappellaio accettò di buon grado e, il giorno successivo, Giuliano attese che Aldaia arrivasse nella sua elegante Mercedes Benz per condurlo in laboratorio quando il magnate capì che le misure le avrebbe prese un ragazzino di 14 anni diede in escandescenze che storia è questa? un poppante! mi state prendendo in giro? Giuliano, per nulla intimorito, rispose signora Aldaia non intendiamo affatto prenderla in giro ma questa chierica sembra la plaza di Arenas e se non ci sbrighiamo a confezionarle un set di cappelli prima o poi la sua pelata verrà presa per il piano urbanistico di Sedra udendo le parole del figlio Fortuny si sentì morire Aldaia fulminò Giuliano con lo sguardo e poi rise come non rideva da anni questo ragazzo fa la strada fortunato sentenziò Aldaia che non aveva ancora imparato il cognome del cappellaio in realtà Don Riccardo Aldaia ne aveva fin sopra i radi capelli del fatto che tutti lo temessero lo adulassero e si prostrassero al suo cospetto come zerbini disprezzava i leccapiedi i pavidi e chiunque mostrasse una qualche debolezza fisica mentale o morale quando si imbatté in quell'umile apprendista che aveva tanta prontezza di spirito da farsi beffe di lui Aldaia si convinse di aver trovato la cappelleria ideale e raddoppiò l'ordinazione nel corso della settimana si presentò puntuale a tutti gli appuntamenti per consentire a Julian di prendergli le misure e provargli i modelli Anthony Fortuny si stupiva ogni volta di come il personaggio più in vista dell'alta società catalana ridesse di gusto alle battute del figlio che per lui era quasi un estraneo con cui non parlava mai e che non aveva mai mostrato di avere il minimo senso dell'umorismo l'ultimo giorno Aldaia prese in disparte il cappellaio Senta Fortunato suo figlio è un ragazzo in gamba non può tenerlo in questa bottega a spolverare l'agnatele il nostro è un esercizio di tutto rispetto Don Riccardo e il ragazzo ha una certa attitudine per il lavoro anche se gli manca la pratica sciocchezze che istituto frequenta va alla scuola pubblica di... è una fabbrica di poveracci il talento e la genialità bisogna coltivarli fin da giovani se no si guastano e alla lunga danneggiano chi li possiede sono doti che vanno incanalate mi capisce Fortunato? guardi si è fatto un'idea sbagliata di mio figlio di geniale non ha un bel niente è già tanto se prende la sufficienza in geografia secondo i professori ha un mucchio di grilli per la testa ed è un ribelle come sua madre del resto ma qui almeno potrà sempre esercitare una professione onorata mi sta annoiando Fortunato oggi stesso vedrò i membri del consiglio direttivo del San Gabriele e proporrò di ammettere il suo figlio nella stessa classe del mio primogenito iorghe non farlo sarebbe un delitto il cappellaio sgranò gli occhi il San Gabriele era un vivaio del fiorfiore dell'alta società ma Don Riccardo non potrei sostenere le spese lei non dovrà sborsare un centesimo dell'istruzione di Julian mi occupo io in quanto padre del ragazzo lei ha solo l'obbligo di accettare mi farebbe piacere è ovvio ma niente ma allora sempre che Julian sia d'accordo naturalmente lui farà quanto gli si ordina ci mancherebbe altro in quel momento Julian uscì dal retro bottega con una forma tra le mani Don Riccardo se vuole accomodarsi dimmi Julian cosa pensi di fare nel pomeriggio chiese Aldaia perplesso Julian guardò il padre e poi il cliente beh darò una mano qui in negozio e poi pensavo di andare in biblioteca ti piacciono i libri eh? sì signore hai letto Conrad? cuore di tenebra tre volte il cappellaio scuro in volto non si raccapezzava si può sapere chi è questo Conrad Aldaia lo zitti con un gesto imperioso a casa ho una biblioteca di 14.000 volumi Julian da ragazzo leggevo molto ma adesso non ne ho più il tempo ora che ci penso ho ben tre copie firmate da Conrad in persona mio figlio Jorg non entra in biblioteca neanche a trascinarlo con la forza l'unica che in casa pensa ancora a leggere è mia figlia Penelope perciò quei libri stanno andando in malora ti piacerebbe vederli? Julian annui in silenzio il dialogo tra i due e quei nomi sconosciuti inquietarono il cappellaio i romanzi comunque erano uno svago per femmine nulla facenti quel titolo poi cuore di tenebra gli puzzava di peccato mortale fortunato suo figlio viene con me voglio presentarlo al mio Jorg non si preoccupi glielo riportiamo sano e salvo dimmi ragazzo sei mai salito su una Mercedes Benz? Julian immaginò che fosse il nome dell'ammiraglia utilizzata dall'industriale per i suoi spostamenti e scosse la testa bene è giunto il momento ti sembrerà di ascendere in cielo ma dal vivo Anthony Fortuny vide i due allontanarsi sulla lussuosa vettura e fu invaso da una grande tristezza quella sera mentre cenava con Sophie che indossava il vestito e le scarpe nuove e aveva i lividi coperti si chiese dove avesse sbagliato stavolta giusto quando il dio gli restituiva a un figlio Aldaia glielo portava via togliti quel vestito che sembri una donnaccia e non mettere mai più in tavola quel vino costoso quello allungato con l'acqua va benissimo non c'è niente da festeggiare Julian non aveva mai attraversato l'avenida Diagonale in vita sua quel viale fiancheggiato da parchi, case patrizie e ville che presidiavano l'avanzata della città era una frontiera proibita oltre la Diagonale si estendevano villaggi, colline e luoghi misteriosi ricchi e leggendari durante il tragitto Aldaia gli parlò del San Gabriel dei suoi futuri amici di un destino impensabile fino a qualche ora prima cosa vorresti fare nella vita Julian? non so, non mi dispiacerebbe essere uno scrittore un romanziere come Conrad, eh? sei molto giovane, è comprensibile e dimmi, una carriera in banca non ti attira? non saprei signore non ho mai visto più di tre pesetas tutte insieme per me l'alta finanza è un mistero Aldaia scoppiò in una sonora risata te lo posso spiegare in due parole Julian il trucco consiste nell'accumulare pesetas non a tre, ma a tre milioni alla volta in tal caso non c'è mistero che tenga neppure la Santissima Trinità mentre l'auto risaliva all'avenida del Tibidabo con quelle case che sembravano cattedrali a Julian parve di entrare in paradiso a metà collina l'autista svoltò e varcò il cancello di una delle ville dove un esercito di domestici era pronto ad accogliere il proprietario Julian riuscì solo a vedere una maestosa residenza di tre piani non aveva mai pensato che persone in carne ed ossa potessero abitare in un posto così nella casa attraversò un vestibolo a volte da cui partiva uno scalone in marmo con pesanti tendaggi di velluto ed entrò in una grande sala con le pareti completamente tappezzate di libri che te ne pare? chiese Aldaia lui quasi non lo sentì Damian, dica a Jorg di scendere subito in biblioteca i domestici scattavano al minimo ordine del padrone efficienti e docili come una squadra di insetti ben addestrati avrai bisogno di un nuovo guardaroba Julian c'è gente ignorante che dà molta importanza alle apparenze se ne occuperà Giacinta, non preoccuparti ecco Jorg Jorg ti presenta un bravo ragazzo che diventerà un tuo compagno di classe Julian Fortu Julian Carat precisò lui Giacomo Giacomo